operazione sorella sanità 2 10 misure cautelari sequestrati oltre 700 mila euro san catalda ispezione dei carabinieri in una struttura per anziani scatta un provvedimento di sospensione non si ferma all'alt della polizia denunciato un giovane a calta nissetta gela pensionato muore dopo un incidente stradale vincenzo salemi era conosciuto anche a calta nissetta comune iniziativa contro il caro bollette e per evitare gli sprechi ben trovati studio con l'edizione di oggi del telegiornale apriamo parlando di cronaca operazione sorella sanità 2 10 misure cautelari sequestrati oltre 700 mila euro sentiamo i dettagli nel servizio è un autentico terremoto quello che ha travolto la sanità siciliana nella notte la procura di palermo e finanziari del comando provinciale del capologo siciliano hanno dato seguito all'inchiesta sorella sanità l'indagine sul giro di tangenti per accaparrarsi appalti pubblici sono cinque le persone arrestate e altrettante quelle raggiunte da una misura cautelare meno afflittiva tra funzionari pubblici imprenditori e professionisti ma anche un luogotenente dei carabinieri del nas i reati contestati agli indagati sono corruzione turbata libertà degli incanti turbata libertà del procedimento di scelta del contraente riciclaggio emissione d'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il gip inoltre ha disposto il sequestro di oltre 700 mila euro quale prezzo del reato di corruzione le indagini hanno tratto origine dalle informazioni acquisite durante l'operazione sorella sanità che nel 2020 ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti sette dei quali già condannati in primo grado corrito abbreviato a pesanti pene detentive gli elementi acquisiti allo stato attuale delle indagini hanno permesso agli inquirenti di individuare un giro di affari di 700 milioni di euro in carcere è finito giovanni luca vancheri 53 anni di caltanissetta funzionario dell'asp di enna indagato per corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente mentre domiciliari finiscono stefano mingardi 57 anni loreto lipomi 59 anni nato a palermo giuseppe bonanno 45 anni di caltanissetta e christian catalano classe 1982 di palermo per gli altri indagati invece il giudice per le indagini preliminari del tribunale di palermo ha imposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria si tratta di luigi annazzo 55 anni di catania giuseppe gallina 54 anni nato a carini nel palermitano alberto vai 49 anni di villa arbassa in provincia di torino claudio petronio 67 anni di motteno in provincia di lecco e massimiliano d'aleo 47 anni di altavilla milice nel palermitano per tre imprese infine il giudice ha stabilito il divieto temporaneo di lavorare con la pubblica amministrazione sono la etec srl la vivi sol srl e lattea spa e adesso san cataldo ispezione dei carabinieri in una struttura per anziani scatta un provvedimento di sospensione non si fermano le ispezioni da parte dei carabinieri del nas di ragusa le strutture ricettive dedicata all'ospitalità di persone anziane quali case di riposo case famiglia e residenze socio assistenziali nella provincia nissena dopo i sigili della casa di riposo abusiva di gela in provincia di caltanissetta infatti questa volta nell'ambito dei controlli svolti nel comune di san cataldo sempre all'interno della provincia nissena è stata individuata una struttura per anziani per la quale il sindaco ha ordinato la sospensione il provvedimento si è reso necessario poiché la struttura è risultata sprovvista di iscrizione all'albo comunale delle strutture socio assistenziali priva dei requisiti organizzativi funzionali previsti per l'esercizio dell'attività specifica e degli standard sancitti dalla normativa di riferimento per le strutture private nello specifico il titolare della struttura non aveva previsto insieme al personale strutturato un infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore figura necessaria per l'applicazione o somministrazione delle terapie prescritte dai medici curanti o dagli operatori sanitari del territorio a beneficio degli ospiti della casa di riposo al titolare dell'attività inoltre è stata contestata una sanzione amministrativa per l'ammontare complessivo di 1032 euro per avere arbitrariamente aumentato la capacità ricettiva della struttura rispetto a quella autorizzata non si ferma all'alt della polizia denunciato un giovane a Caltanissetta un 26enne di Caltanissetta è stato denunciato dalla polizia di stato per non essersi fermato all'alt degli agenti i poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale procura della repubblica un 26enne per resistenza pubblico ufficiale l'episodio si è verificato mercoledì sera quando il giovane a bordo di uno scooter e privo di casco è stato notato dagli agenti mentre percorreva ad alta velocità via costa lo stesso avrebbe ignorato l'alt intimato dalla polizia dandosi alla fuga e creando pericolo per la circolazione stradale la folle corsa si sarebbe arrestata nella rotatoria di via costa dove il conducente del ciclomotore avrebbe perso il controllo del mezzo impattando contro di essa e continuando la fuga a piedi fino a quando è stato bloccato dai poliziotti al giovane gravato da numerosi precedenti giudiziari oltre alla denuncia penale gli agenti hanno contestato nove sanzioni al codice della strada poiché privo di patente di guida di copertura assicurativa di mancata revisione del mezzo a cui si aggiungono la guida pericolosa e il mancato uso del casco sette allievi vice ispettori della polizia penitenziaria che stanno svolgendo un tirocinio formativo per accedere al ruolo di ispettore sono stati ospiti in questura per svolgere un approfondimento concernente l'attività di polizia giudiziaria disposto dal provveditorato regionale della sicilia del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quanto si legge in un posto sulla pagina facebook della questura gli allievi spettori hanno assistito a presentazioni tenute dai colleghi della polizia di stato della squadra mobile della polizia scientifica concernenti attività pratiche di polizia giudiziaria controllo del territorio e polizia scientifica i due giorni formativi in questura sono stati un'occasione utile di confronto tra le diverse esperienze di lavoro i sette allievi vice ispettori attualmente prestano servizio presso la casa la locale casa circondariale e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni la casa di reclusione di san cataldo e la casa circondariale di gela ci spostiamo a racalmuto a fuoco la villetta di un insegnante intervento dei carabinieri è di natura dolosa l'incendio che ha distrutto all'interno di una villetta abitata nel periodo estivo e di proprietà di un insegnante di racalmuto qualcuno sarebbe riuscito ad entrare all'interno dell'abitazione e una volta dentro avrebbe appiccato il fuoco ad arrede su pellettili lo spiacevole episodio si è verificato la scorsa notte nella periferia di racalmuto in provincia di agrigento sarebbero stati alcuni passanti a segnalare le fiamme al 112 sul posto sono tempestivamente arrivati i vigili del fuoco di canicattì e i carabinieri della stazione cittadina che hanno subito avviato le indagini la procura della repubblica di agrigento intanto ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti il fuoco ha distrutto alcuni arredi e mobili riempito di fuligine e annerito gli ambienti della residenza gela pensionato muore dopo un incidente stradale vincenzo salemi era conosciuto anche a caltanissetta è morto nella notte vincenzo salemi il pensionato originario di riesi investito ieri da un tir in via venezia gela l'uomo subito dopo l'incidente era stato trasferito in elisoccorso in coma farmacologico all'ospedale santeria di caltanissetta per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico purtroppo non ce l'ha fatta troppo gravi le ferite riportate dall'impatto con il mezzo pesante per causa ancora da accertare l'uomo sarebbe uscito da una strada secondaria e sarebbe stato travolto dal mezzo pesante sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente verosimilmente sarà aperto un'inchiesta per fare luce sul sinistro e per individuare eventuali responsabili l'uomo per diversi anni era stato direttore dell'ufficio postale di caltanissetta e lavorò anche a niscemi e adesso parliamo di un'iniziativa del comune di caltanissetta contro il caro bollette per evitare sprechi contro il caro bollette gli aumenti dei costi dell'energia il comune di caltanissetta adotta un vademecum di buone pratiche scritto dall'energy manager di palazzo del carmine l'ingegnere guido donato mozer regole quindi che i dipendenti dell'ente dovranno rispettare per contribuire al risparmio energetico ed in un periodo come quello attuale in cui in tutta italia secondo una ricerca del sole 24 ore le bollette già pagate da gennaio a settembre dal complesso degli enti territoriali in tutta italia segnano aumenti del 44,3 per cento alla voce energia elettrica con il rischio per i comuni di un raddoppio secco dato il colpo dell'inflazione che non è lontana da quello della pandemia così adottare buone pratiche comportamentali per evitare inutili sprechi di risorse di tutti i tipi a cominciare dal cattivo uso di apparecchiature elettriche è una risposta utile e concreta ci troviamo in una fase storica in cui i continui aumenti dei costi energetici ci impongono di attivare una serie di azioni che devono avere lo scopo di dare maggiore attenzione ai consumi e agli sprechi appunto per questo l'energy manager del comune di caltanissetta l'ingegnere guido mozer ha redatto un vademecum per il risparmio energetico destinato ai dipendenti di questa amministrazione perché oggi gli sprechi si pagano a caro prezzo e dovranno essere combattuti in tutti i modi. Il vademecum individua quali siano i corretti utilizzi degli impianti di climatizzazione, ascensori, illuminazione interna nei luoghi di lavoro, utilizzo di computer, stampanti e fotocopiatrici, tutto per utilizzare bene l'energia e il risparmio energetico nei luoghi di lavoro pubblici che possono essere seguiti anche da tutti i cittadini. Laurea anticipata per un'anissena, Stefania Maria Caruso, la prima volta alla Core di Enna. Prima di procedere alla preparazione desidero esprimere tutto il mio, il nostro, divissimo apprezzamento all'eccezionale suo percorso di studi che oggi trova la sua degna condizione. Un percorso peraltro contrassegnato da una media straordinaria e completato, ed è la prima volta che accade, con un anno di anticipo rispetto alla premista durata qui in vent'anni. Questo l'esito del suo esame di laurea, in forza dei poteri conferiti dalla legge, la programma dottore in giurisprudenza, un voto 110 su 110 e 9. È la prima volta che all'Università Core di Enna uno studente traguarda la laurea magistrale con un anno d'anticipo e con il massimo dei voti. Così a solo 22 anni Stefania Maria Caruso arriva alla laurea in giurisprudenza con una tesi su intelligenza artificiale e diritto e a 24 ore dalla proclamazione ci racconta le sue emozioni. Si è chiuso un capitolo importante e spero se ne ha tra un altro, ancora più avvingenti e soddisfacenti. Sicuramente questi quattro anni sono volati. Non sono stati quattro anni fa, anche a causa del Covid che ha reso l'esperienza universitaria molto diversa da quello che, diciamo, da come me l'aspettavo. C'è uno stante che ho rimediato abbondantemente con l'esperienza in Erasmus, in Almeria, appunto nel sud della Spagna, che mi è rimasta veramente nel cuore. Ed è un'esperienza che veramente consiglierei a tutti di fare, in tutta onestà. Sono amante dello studio, ecco, di ciò che mi può stimolare, mi può accendere la curiosità. Però io credo che il diritto sia veramente tutto bello. Ed è, come ho sempre detto anche, diciamo, giustificando la scelta ai miei, ai miei amici e così via, è un po' quel thread union tra gli studi umanistici, ecco, un approccio pratico. Quindi era questo. Uscendo dal liceo classico, fortunatamente ho riscontrato ovviamente un pil rouge con giurisprudenza. Però anche, ecco, quel tecnicismo che credo sia adesso necessario al mondo adulto, cui spero di approdare prima o poi. Non solo studio, anche molte altre passioni ed un chiaro sogno da realizzare. Sono amante della subacquea, del basket che ho praticato per veramente tantissimi anni, dell'equitazione, cos'altro ci manca. Sono la motociclista, recentemente, da poco motociclista. Insomma, sono appassionata di viaggi, di fotografie e nulla più. Io mi sono iscritta in giurisprudenza col sogno di approdare magistratura. Ed è un sogno che veramente, questo è il timore di esprimere, diciamo, ad alta voce. Tant'è che, non so se noti, ma già sto tremando. Perché, ecco, è un sogno verso il quale nutro un profondo rispetto. E ho la consapevolezza, in realtà, che se mai dovessi, diciamo, arrivarci, che veramente ne sarei super felice. Ma ecco, è arduo. Sarà uno studio molto differente, diciamo, quello per la preparazione del concorso. E lo stato attuale, non ti nascondo, che alzi un po' le mani, perché vedremo. Scoprire e riscoprire Caltanissetta. Domenica, visita nel centro storico, dalla Fontana del Tretone al quartiere Provvidenza e anche nella chiesa di San Giuseppe. Riprendono, dopo l'estate, gli appuntamenti organizzati dal Cral Giustizia Nisseno per conoscere la storia e le bellezze architettoniche, non solo della città. L'iniziativa Scoprire e Riscoprire Caltanissetta viene riproposta da circa 16 anni, subendo una battuta d'arresto soltanto durante la pandemia. Attività ripresa, però, già nei mesi passati e adesso si pensa alle prossime visite gratuite in programma. L'iniziativa è nata già nel 2000, se non ricordo male, 6, sul suggerimento di Vincenzo Falzone, subito condivisa da noi, perché abbiamo capito che i nisseni non conoscono a fondo la nostra città e infatti in ogni appuntamento vengono parecchie persone e si meravigliano di quello che c'è a Caltanissetta sia in termini di storia, di tradizioni e di monumenti che spesso li vediamo ma non ne conosciamo la loro natura. Finalmente abbiamo pensato, sia ottobre, novembre e dicembre, di fare queste visite guidate e storiche per la città. È aperto a tutti, non solo al cralle di giustizia che è il promotore e quindi diciamo che loro, oltre che partecipano, ma a tutta la città di Nanza e ai turisti che si trovano. Questa domenica 23 ottobre, dunque, in collaborazione con i club nisseni, Lions Città dei Castelli, Royal Eagles e Associazione Francesco Amico dalle 10 del mattino si farà una passeggiata insieme allo storico Vincenzo Falzone in centro storico e per l'esattezza si partirà dalla Fontana del Tritone sino ad arrivare al quartiere Providenza, passando davanti l'omonima chiesa per poi arrivare nella parrocchia di San Giuseppe. La particolarità è la storia, la storia come nasce questa chiesa, quali sono le opere che si trovano all'interno della chiesa, che ci sono delle opere particolari. C'è ad esempio un quadro, entrando a destra, perché ve ne dico una così in tv, ma venitemi a trovare domenica, dove c'è un quadro della vestizione. Oggi è San Bernardo da Corleone, il famoso cavaliere spadaccino del Seicento, che era il più famoso, che ferì un suo coetaneo e fu ricercato allora per tutta la Sicilia, era di Corleone, e venne a Caltanissetta dove fece il noviziato dei frati Cappuccini. E questo quadro è il momento in cui viene fatta la vestizione che diventa frate e abbandona la spada, come si vede in questo quadro. Questo è un particolare. 20 alunni dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Luigi Russo di Caltanissetta hanno varcato la soglia del Polo Laboratorio Acque e Potabili di Caltacqua per conoscere un po' più da vicino un tratto, quello del monitoraggio e controllo delle risorse idriche immesse in rete e distribuite. Di quel lungo viaggio che ogni giorno l'acqua compie per raggiungere i rubinetti di casa. E quanto fa sapere Caltacqua in una nota? Illustrate le caratteristiche dei grandi serbatoi di raccolta delle acque potabili, i tipi di controlli effettuati e la metodologia utilizzata nella sistematicazione di monitoraggio delle acque immesse in rete. E in un'altra nota Caltacqua fa sapere che il fornitore siciliacque non ha ripristinato in data odierna la fornitura, per cui sabato 22 ottobre non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica in programma nel comune di Marianopoli. Andiamo al bando per la locazione del Palacarelli, la scadenza il 22 novembre alle ore 12. Manca poco più di un mese alla scadenza del bando per la locazione del Palacarelli. Si punta all'affidamento dell'impianto sportivo di Via Rochester realizzato negli anni 90 attraverso un mando ad evidenza pubblica, il quarto per l'esattezza, che scadrà il 22 novembre alle ore 12 e che prevede un canone annuo di locazione ridotto rispetto a quanto richiesto in precedenza, da poco più di 23 mila euro adesso il canone è di 18 mila. Il bando si rivolge a tutti gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici, enti senza personalità giuridica o raggruppamenti di tali soggetti, comprese le associazioni temporanee di impresa. La locazione dovrà avere una durata minima di 6 anni fino ad un massimo di 50, durata che viene rapportata all'entità dell'investimento. Così come viene spiegato anche nel comunicato del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nel caso di 6 anni è pari a 120 mila euro, aumentando gli anni cambia infatti la cifra. Ad esempio, per la durata di 20 anni l'investimento è di circa 238 mila euro. Le spese effettivamente sostenute come investimento iniziale potranno essere detratte in oltre al 100% dal canone annuale, così come si prevede la possibilità di decurtare anche delle somme che vengono destinate ad un eventuale ulteriore investimento per effettuare opere di manutenzione e rifunzionalizzazione dell'impianto sportivo nel corso dei primi 5 anni dalla stipula del contratto di locazione. Per quanto riguarda le attività da svolgere al suo interno, le stesse vengono specificate nel bando pubblicato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Le attività che possono essere esercitate devono risultare conformi all'attuale destinazione d'uso e alle finalità che condussero alla costruzione dell'impianto, si legge ancora nel comunicato, e le ulteriori attività che i concorrenti avessero intenzione di esercitare devono comunque essere coerenti e compatibili con il Piano Regolatore Generale del Comune di Caltanissetta e devono rispettare tutte le norme applicabili per le attività che si vuole esercitare ed essere preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Adottiamo un sorriso è il motto di un incontro che si terrà domenica 23 ottobre con inizio alle 17 nel Palazzo Notarbartolo di Piazza San Giuseppe per un aperitivo solidale a favore dei ragazzi della comunità Monsignor Naro di Tanga in Tanzania. L'iniziativa è della comunità Santa Maria dei Poveri, laici consacrati organizzati in congregazione da Don Vincenzo Sorce, fondatore di Casa Rosetta. Donazioni potranno essere effettuate durante la serata di domenica. Nel programma c'è anche la visita a una mostra fotografica allestita nel Palazzo che raccoglie immagini scattate a Tanga dal professore Peter Cipolla, componente del direttivo di Casa Rosetta, che ha curato negli ultimi due anni la realizzazione di un progetto di prevenzione e di formazione finanziato dall'ONU, che ha coinvolto anche migliaia di studenti e di insegnanti della Tanzania. Ecco Forum regionale su rifiuti ed economia circolare in programma martedì 25 ottobre a Palermo. Sentiamo. In questi ultimi cinque anni la raccolta differenziata è passata complessivamente dal 22 al 48%, con oltre 230 comuni piccoli e medi, il 53% del totale, che hanno abbondantemente superato il 65%, grazie all'impegno virtuoso da parte dei cittadini e alla messa a punto di servizi di raccolta idonei ed efficienti. Sicuramente si può e si deve fare di più. Comincia così il comunicato stampa relativo all'Ecoforum regionale su rifiuti e l'economia circolare di Lega Ambiente. L'evento, infatti, giunta alla sua quinta edizione, si svolgerà a Palermo il 25 ottobre, suddiviso in due sessioni, quella mattutina e quella pomeridiana, e rientra nel progetto nazionale di Lega Ambiente Sicilia Munizza Free, sostenuto da diversi partner e patrocinato da Anci Sicilia e dal Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana. La quinta edizione dell'Ecoforum su rifiuti e l'economia circolare vuole continuare ad essere un'occasione di incontro e confronto tra istituzioni, operatori del settore ed esperti, proprio sulle proposte gestionali e sulle soluzioni anche industriali, a partire dalla realizzazione degli impianti a servizio della raccolta differenziata del riciclo, per proseguire nella direzione giusta dell'economia circolare. Tanti gli argomenti trattati nel corso della giornata, coinvolgendo istituzioni, esperti e operatori economici, dai sistemi di raccolta per la gestione del riciclo integrato dei rifiuti alla rete impiantistica per le infrastrutture, passando per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne, fino ad arrivare al sistema di depurazione in Sicilia. Sarà presente anche una delegazione di Lega Ambiente Caltanissette e proprio il presidente nisseno, componente anche del direttivo regionale di Lega Ambiente Sicilia, Ivo Cigna, sarà il moderatore di quest'ultimo tema dedicato appunto alla depurazione. Sarà dunque una giornata dedicata all'incontro e confronto tra le parti interessate. In questa fase si precisa ancora nel comunicato, così importante per l'avvio concreto dell'economia circolare, il messaggio trasversale e costruire innovazione e sostenibilità. La Nista Rugby rinuncia al campionato di Serie C, vista la perdurante chiusura del Tomaselli, non c'è un campo omologato. Alla fine, quello che non doveva accadere è accaduto. Doloroso e incredibile addio quello della DLF Nista Rugby, che è stata costretta a rinunciare al campionato Signores Maschile di Serie C, poiché a Caltanissetta, vista la perdurante chiusura del Tomaselli, non c'è un campo omologato per il rugby. Dopo ben 15 stagioni, la società a punto di riferimento del rugby del centro Sicilia, preseduta da Giuseppe Lo Celso, non prenderà parte al campionato Signores Maschile. Un colpo devastante per la società Nissena, che per adesso prosegue gli allenamenti del settore giovanile del mini rugby presso il complesso sportivo Michele Amari di Portella della Ginestra. Si susseguono le riunioni in seno alla società, anche perché il problema del campo potrebbe riproporsi a breve per i tornei giovanili e per la senior femminile. Tutto questo mentre lo stadio Nisseno Marco Tomaselli resta chiuso perché l'amministrazione ha deciso di apportare, con decisione unilaterale, un cambiamento al capitolato d'appalto che prevedeva l'intarsio delle linee indelebili per rugby e calcio. L'amministrazione, per poter modificare il capitolato, necessita di una deroga che può concedere solo sport e salute, che ha sborsato il finanziamento e che necessita dell'accordo congiunto della Federazione Italiana Rugby e della FIGC. I lavori, non completati, non consentono il collaudo. E adesso calcio serie di domenica ottava giornata di campionato. La San Cataldese tornerà a giocare in casa dopo la prova sul campo del Real Aversa nel turno infrasettimanale. Al Valentino Mazzola e Verdi Amaranto ospiteranno il Santa Maria Cilento. La squadra di Pietro Infantino, ultima in classifica, è chiamata a una prova di carattere per tirarsi fuori da una situazione critica. Gli avversari, reduci da tre vittorie consecutive, puntano al risultato pieno. Il quadro completo delle partite, Canicattì San Luca, Castrovillari Real Aversa, Acereale Trapani, Sant'Agata Vibonese, Cittanova Licata, Lamezia Ragusa, Locri Mariglianese, Paterno Catania, San Cataldese, Santa Maria Cilento. E adesso eccellenza. La Nissa giocherà nell'anticipo di sabato sul campo del Castellammare, fischio d'inizio alle ore 15.30. I biancoscudati, penultimi in graduatoria, tenteranno la conquista del primo successo in trasferta, impresa alla portata della squadra di Boncore, contro una formazione che al momento ha subito più gol in tutto il girone, 17 in sei partite e quattro sconfitte come la Nissa. Il quadro completo degli incontri, Castellammare-Nissa, Parmonval-Acragas pure di sabato, Don Carlo Sciacca, Enna Resuttana, Gela Mazzara, Profavara Oratorio Marineo, Mazzarese Casteldaccia, Cus Palermo-Leonfortese. E adesso il rally di Caltanissette del Vallone, sabato e domenica, 90 equipaggi al Via. Sarà un'edizione da ricordare la vendesima del rally di Caltanissetta in programma il 22 e 23 ottobre, non solo per il prestigioso anniversario, ma anche per l'interessante livello degli equipaggi iscritti che andranno a caccia degli ultimi punti disponibili per le classifiche della Coppa Italia e del campionato siciliano. Da un lato la possibilità di staccare gli ultimi passi per la finale di Bico, in programma il 5 e 6 novembre, dall'altra l'ultima chance per scalare le classifiche della serie regionale, promossa da ACI Sport Sicilia. Il parterre dei protagonisti è davvero importante, a cominciare dagli equipaggi della classe regina, fra cui spiccano i vincitori della scorsa edizione, i beniamini di casa Roberto Lombardo e Alessio Spiteri, che gareggiano su versione Evo della Skoda Fabia R5 per replicare il successo del 2021. Sulla stessa vettura sfidare i campioni turchi Burak Kukurova e Barak Gai, il mussomelese Paolo Piparo e Simone Crosilla e il team Elisabetta Franchitta e Rosario Merentino. Sempre in gruppo R2 NC, ma su Peugeot 207 Super 2000, Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro, mentre particolare attenzione agli agrigendini Maurizio Mirabile e Calogero Calderone, che saranno sulla bellissima Renault Alpine A110. Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno con le Super 1600, Biagio Mingoya e Giovanni Loverme su Fiat Punto, Giuseppe Gianfilippo e Sergio Racuia e Calogero Mattina e Ivano Rosato su Renault Clio. Appassionante come sempre è la sfida fra i giovani della classe Rally 4, dove desta particolare interesse il confronto palermitano fra Ernesto Riolo con alle note Maurizio Marino e Rosario Cannino con Giuseppe Buscemi, che sono in lotta per la Coppa di Classe nel campionato siciliano. Di rilievo anche la partecipazione di Nazareno Pellittieri e Michele Lomonaco, con la Renault Clio di classe A7. Mirano anche alle piazze di vertice i protagonisti della classe A6, in particolare in inseni Salvatore Rocascio con Michele Castelli e l'equipaggio composto dal mussomalese Salvatore Pio Scannella e dal madonita Francesco Calipò. Sempre affollata la classe N2, dove fra i piloti che sicuramente potranno essere protagonisti figurano Giuseppe Scannella, Michele Spena e Alessandro Marletta. Al ventesimo rally di Caltanissetta prenderanno parte anche 18 affascinanti autostoriche per definire le classifiche del campionato siciliano. Fra gli equipaggi più accreditati al Via, Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina su una Porsche Carrera RS di secondo raggruppamento, mentre disporranno di un modello 911 di quarto raggruppamento della vettura di Stoccarda, Enzo Barcellona e Girolamo Catalano. Siamo veramente contenti che siamo riusciti a fare il rally di Caltanissetta perché abbiamo avuto un po' di problemi un po' di mesi fa, quindi riprenderlo è stata una cosa positiva anche che mi pare l'organizzatore, quindi sono contento per lui. Spero di divertirmi, fare divertire il pubblico come al solito, le prove sono belle, quindi daremo il massimo di noi. Gli equipaggi ce ne sono, quindi sono contento pure per questo, gli iscritti ormai nel rally non è facile che trovi tutti questi equipaggi, ora quest'anno sono contento per mio padre, va bene così. Ancora sport, volle femminile, Alba Verde e Caltanissetta impegnata sabato alle ore 18, nella terza giornata del campionato di Serie B2. Le nissene dovranno vedersela tra le mura amiche del Palacanizzaro con la Planet di Pedara. L'Alba Verde prima della classe vuole conquistare l'ennesima vittoria per dare continuità a quanto di buono fatto finora. Il quadro completo delle partite in programma, Gioiosa Ionica Fidelis Torretta, Zafferana Ericina, Comiso Stefanese, Alba Verde Planet, Cuscatania Alus, Crotone Region, Valle Saracena. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nella prossima edizione del telegiornale, intanto vi lascio al Meto le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato quando a livello europeo possiamo notare questa vasta circolazione di bassa pressione. Avrà due motori depressionari, uno sulle isole britanniche, l'altro a largo del Portogallo, in via raccorrenti umide al centro-nord Italia. Nel dettaglio possiamo notare di fatti sabato molte nubi irregolari ancora in transito al nord e sulla Toscana, sole invece al sud con clima estivo. Nel dettaglio la mappa delle precipitazioni sarà una giornata con possibilità ancora di piogge temporali, specie tra Liguria, Lombardia e Venezia. Nel dettaglio la mappa dell'Italia, una giornata diciamo con elevato rischio di precipitazioni al nord, anche sfondo temporalesco sul Triveneto, sulle rimanenti zone del centro-sud più sole e soprattutto per i venti di Libeccio massime fino a 26-27 gradi. Dettagli maggiori li trovate però scaricando l'app di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Croce Verde, Viale della Regione, Servizio notturno, San Pio X, Via Napoleone-Colaianni. Servizio notturno,